L'obiettivo principale è quello di dare il via, di dare l'inizio a questa iniziativa voluta da Scalea Europea unitamente al gruppo di associazioni che fa capo all'associazione principale che è Prima che tutto crolli proprio per avviare una serie di attività e una serie di politiche volte alla valorizzazione e al recupero dei centri storici. Il nome dell'associazione capofila che è Prima che tutto crolli dice tutto, cioè interveniamo prima che tutto crolli prima che nel caso particolare il centro storico di Scalea possa versare in condizioni peggiori di quelle in cui è. Non è che il centro storico di Scalea è quello messo peggio ma ovviamente necessita di una serie di interventi volte a valorizzare chi, anche incentivare soprattutto chi il centro storico lo abita e sono tante le famiglie del centro storico che abitano il borgo e soprattutto chi vuole investire nel centro storico. Ovviamente è stata deliberata dal Consiglio Comunale di Scalea il 17 maggio, è stata approvata questo atto di indirizzo e quindi possiamo dire che Scalea c'è.